I contemplativi, i monaci, le monache, si sente che prega, lavora, prega in silenzio per tutta la Chiesa. E questo è l'amore, è l'amore che si esprime pregando per la Chiesa, lavorando per la Chiesa nei monasteri. Questo amore per tutti anima la vita dei monaci e si traduce nella loro preghiera di intercessione.